A Montemurlo non esistono le frazioni, ma una forte identità con il territorio. Così spesso si sentono frasi come suono di emorecce o suono di oste. Per mettere nero su bianco questa appartenenza, l'amministrazione comunale ha deciso di investire nella cartellonistica. Abbiamo voluto dare una maggior facilità a chi viene di Montemurlo per rendersi conto anche della configurazione spaziale del territorio, quindi una maggior riconoscibilità a quelle che sono le varie località del comune. Sono cartelli ovviamente a sfondo turistico, ma che consentono quindi di aggiungere maggior consapevolezza a tutti quelli che per lavoro o per studio frequentano o vengono a Montemurlo, che come sappiamo sono tanti. Dalle ultime statistiche dei varchi elettronici che abbiamo installato ci sono oltre 50.000 presenze a Montemurlo durante il giorno. Un progetto che rientra in un più generale potenziamento dell'informazione. Vogliamo portare avanti un progetto complessivo di riordino della nostra segnaletica verticale con l'obiettivo di migliorare le indicazioni per quelli che sono i luoghi più sensibili e principali nei quali vengono effettuati anche servizi importanti nei confronti dei cittadini. Quindi a partire dall'indicazione ad esempio per l'impiantistia sportiva, le indicazioni delle nostre scuole, le indicazioni ovviamente dei pubblici uffici. In modo che chi viene a Montemurlo anche da fuori abbia piena facilità nel raggiungere luoghi nei quali si svolgono attività importanti. Grazie. Grazie. Grazie.